Buonasera Jessica, buonasera amabile giuria, buonasera a tutti voi, pubblico. Rispetto alla domanda che mi hai fatto Jessica, secondo me internet a giorni d'oggi è indispensabile, soprattutto per chi lavora, soprattutto per chi studia, quindi secondo me internet non mancherà, secondo me, però se dovrebbe mancare tutti noi piangeremo, secondo me, scusate se no. Grazie Gioseline Delgado.